Siena è una città piccola ma ha dei cittadini straordinari. Può essere sintetizzato così il manifesto di Senesi nel mondo, neonata associazione costituita con l'obiettivo di diventare un network di idee e di relazioni vere e proprio, polo aggregante e inclusivo per tutti quei senesi che lavorano ed operano lontano dalla città, ma non solo. In un momento in cui la città attraversa una fase particolare, chiamare a raccolta i nostri concittadini senesi che hanno delle professioni importanti nel mondo e in Italia, che possono dare idee e anche idee correlate a progettualità sostenibili e finanziabili, attrarre risorse, progetti nella città. In un momento in cui la città ha sempre un grande capitale, un capitale umano, ha prodotto delle persone che hanno raggiunto ruoli importanti nelle professioni, nella finanza, in questo momento svolgono ruoli significativi nelle loro professioni, è il momento in cui loro possono ridare alla città delle energie, insieme a un gruppo sul territorio che ne faccia sintesi e ne faccia anche un'attività di moral suegio, di concretizzazione verso le istituzioni. Senesità intesa come senso di appartenenza, ma anche come valore morale da mettere al servizio del bene comune. Negli anni che seguono la crisi economica e politica che ha investito la città, organizzazione apartitica e che si propone di aggregare le più disparate energie e professionalità, Senesi nel mondo vuole anche promuovere progetti e programmi per la città sia di carattere economico che culturale, contribuendo a formulare proposte e messaggi propositivi per stakeholders e istituzioni del territorio. Siena riparte da se stessa, riparte dai senesi.